Lui è sole, è questo asinello più scuro. È un asinello molto giovane, è nato nel 2015 a 6 anni. È arrivato qua da noi nel giugno del 2019, poiché i suoi precedenti proprietari erano disperati perché non riuscivano a trovare la causa di una dermatite che aveva completamente lasciato sfigurato questo asinello. È arrivato qua da noi, il nostro veterinario Luca ha prelevato dei campioni di cute. Da lì è stato appurato che la causa di questa forte dermatite era un'allergia alle graminacee. In questo momento Sole, grazie a tutte le attenzioni e le cure che gli sono state fornite grazie al supporto di tutti i donatori, gode di buona salute. Il suo pelo è ricresciuto lungo tutto il corpo. Se qualcuno fosse interessato ad aiutare Sole può contattarci. Devo dirvi che io sono davvero arrabbiata perché è un malcostume tutto italiano, quello di abbandonare un animale, darlo via, come si dice in gergo, perché si ammala. Si ammala e non si ha voglia di curarlo, non si capisce come curarlo, non si ha tempo di curarlo. Ma io dico, ma se lo facessero con voi, ma non si può essere così vili nella vita, davvero. Prendere un animale vuol dire essere consapevoli che potrà avere bisogno di cure supplementari, anche soltanto perché invecchiando naturalmente le attenzioni devono essere maggiori, o perché potrebbe ammalarsi. Succede a tutti, succede anche a noi. E allora quando noi ci ammaliamo, qualcuno si prende cura di noi, perché abbiamo dei figli, abbiamo delle persone che ci vogliono bene. La stessa cosa deve essere per loro. Eppure Sole è stato abbandonato perché aveva una dermatite. E quindi io non posso che consigliarvi di adottare Sole, telefonando subito al 340-8829-165. Oppure, come al solito, potete scrivere a portamiacasa.chiocciola dalla parte degli animali punto.